Domenica 8 gennaio amministratori della provincia di Isernia al voto per il rinnovo del consiglio provinciale Pentro. Si tratta di elezioni di secondo grado in cui sono chiamati alle urne appunto soltanto i sindaci e gli amministratori comunali dei 52 comuni ricadenti sul territorio della provincia di Isernia e a pochi giorni dall'appuntamento con le urne dal palazzo di via Berta arrivano le indicazioni pratiche per le operazioni di voto. Le votazioni, si legge in una nota dell'ufficio di presidenza, si trarranno nella sala consigliare sita al primo piano del palazzo della provincia dalle ore 8 alle ore 20. Al termine dello spoglio saranno comunicati i risultati definitivi della votazione stessa con i nominativi di 10 consiglieri provinciali eletti.